Sentetevi troppo comodi, abbiamo solo 20 minuti per conoscere meglio l'unica donna italiana leader di un partito e anche leader dei conservatori europei. Questa sera non parleremo di politica, almeno ci proveremo. L'ospite è pronto, noi facciamo le domande, sigla. Io sono Giorgia, ovviamente non sono io, ma è il titolo della puntata di questa sera che è Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, bentornata. Buonasera, grazie. In studio con noi è anche Gennaro San Giuliano, direttore del Tg2, bentornato. Buonasera a tutti. Allora, in un mondo nel quale tutti puntano a diventare qualcuno, la sfida che ho imposto alla mia vita è riuscire a rimanere sempre me stessa, costi quel che costi. Allora, questo recita la quarta di copertina del suo libro, io sono Giorgia, che è anche il nostro titolo. Ma fino a che punto si può spingere la sua sfida e quale prezzo è disposta a pagare con quel costi quel che costi? Beh, tutto il prezzo che va pagato, perché l'idea che io mi sono fatta della politica è che alla fine è una grande sfida con se stessi, soprattutto. Io ho cominciato a fare politica a 15 anni, ho scritto anche nel libro che quando devo prendere una decisione importante cerco di guardarmi con gli occhi di quella ragazza, perché comunque vada non sarò mai più pura di così, più decisa di così. E volevo cambiare tutto, no? E non capivo perché la classe politica che aveva in mano il potere non riuscisse a fare cose diverse. Poi ho capito che è molto più difficile di quanto sembri, ma non ho rinunciato a quella sfida. Penso che alla fine del percorso ciascuno di noi debba fondamentalmente farsi questa domanda. Sono riuscito a cambiare qualcosa di questo sistema oppure alla fine è questo sistema che ha cambiato me? E dalla risposta che dai a quella domanda è deciso. Decidi se hai vinto o se hai perso. Questo vuol dire che la politica, per essere fatta come io credo che vada fatta, ha bisogno di una condizione fondamentale che è la libertà. Per fare politica liberamente devi anche essere disposto sempre a pagare il prezzo che va pagato, compreso il prezzo appunto di smettere, di continuare a fare politica in un altro modo. Lei ha pagato molto? Io ho pagato quando dovevo pagare e non ho avuto paura eventualmente di pagare. Cioè quando noi abbiamo fondato Fratelli d'Italia, io ero una persona come altri che hanno fatto quella scelta con me che non aveva esattamente il problema di essere rieletta in Parlamento, per intenderci. No. Ho rischiato di terminare il mio percorso parlamentare perché non accettavo di farlo in una realtà che non mi rappresentava più. Preferivo rischiare di non farlo più ma rimanendo me stessa. Quindi, diciamo, questo lo abbiamo dimostrato e è una condizione della politica per farla bene di essere sempre pronto a mollarla e per questo non ho mai considerato quello che faccio un mestiere, no? La carriera, ecco si dice, la carriera politica. Per me la politica non sarà mai una carriera. Io la considero sempre una parte, incredibilmente, nonostante la faccio da diversi anni, continuo a considerarla una fase transitoria della mia vita. Ho i miei piani B, i miei piani C. Perché la puoi fare? Mi dice il piano B. Un programma radiofonico. Ah, fantastico. Vorrei fare la radio, a me piace da morire la radio. Più della televisione, lo confesso, perché la televisione secondo me ha più sovrastruttura, no? Cioè tu vai in televisione e cerchi di dire delle cose intelligentissime e poi ti dicono stai bene con quei capelli. Nella radio questa, soprattutto per le donne, no? Nella radio questa sovrastruttura non c'è, c'è la tua voce, c'è la tua anima, arriva diretta. A me piacerebbe tantissimo, insomma, sono giornalista per cui di cose ne potrei fare. Però sì, l'ho sempre vissuta così. Quindi sono disposta a pagare il prezzo che serve per essere libera, ecco, per essere libera di fare le cose nelle quali credo. Poi certo, insomma, ci si muove in un contesto che è molto aggressivo, che sa essere molto convincente. E quindi non è sempre facilissimo. Però finora mi pare che abbiamo dimostrato che si può fare. Allora, del suo libro ormai ne hanno parlato tutti, ma c'è qualcosa in più tra le parole di cui noi vorremmo parlare questa sera. Partendo dalla fine, però, la nostra copertina. Prima di iniziare, Andrea Castagnone e Alessandro Cosso. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. È il gioco del pensiero unico. Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2. Genitore 1, genitore 2. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Genitore 1, genitore 2. Genitore 1, genitore 2. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Giorgia. Allora, un rap nato come uno sberleffo, una presa in giro, in realtà è riuscito a capovolgerlo e a farne un punto di forza. Abbiamo detto partiamo dalla fine, l'ultimo capitolo è dedicato a sua figlia, quindi al futuro. All'inizio di Ginevra, questo è il titolo del capitolo, dice guarda c'è la bandiera di mamma, questo è quello che dice Ginevra, no? Allora, dopo un lungo periodo in cui non si vedevano le bandiere in giro, i calciatori cantavano l'inno a mezza bocca, se lo cantavano, la musica adesso è cambiata. Gli italiani cantano tutti l'inno a squarciagola e sventolano i tricolori. Ne vediamo un assaggio e poi ne parliamo insieme. Fratelli d'Italia, l'Italia se destra nell'eco di Cipio, se cinta la testa, dove la vittoria, le porca la chiova, che schiava di Roma. Allora, ci siamo scoperti i patrioti dopo la pandemia e dopo la vittoria dell'Italia? Beh, allora intanto vale la pena di fare un passaggio su questa nazionale perché credo che molto sia di peso dall'orgoglio di questi ragazzi. Io ho visto una squadra, non sono una, a differenza di quasi tutti gli italiani, non sono un'esperta di calcio. Però l'ho visto urlare su social. No, no, sì, sì, ma io quando si tratta di urlare ci sono per il tifo. Però io ho trovato che questa squadra avesse un grande orgoglio, una grande voglia di rappresentare questa nazione. E forse anche questo è un ingrediente della vittoria. Dopodiché, noi siamo stati abituati per la verità anche in altri tempi a vedere gli italiani sventolare la bandiera tricolore quando giocava la nazionale. Lì non può meno, però il punto è che poi non accadeva in tutte le altre occasioni della nostra vita. Questo è cambiato. È stato un percorso molto lungo. Credo che una parte di questo lavoro si debba, perché le cose vanno riconosciute, al Presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi. Che su questo fece alcuni passaggi, dal mio punto di vista, importanti anche in rapporto alla storia, alla riscoperta di alcuni passaggi della nostra storia. È sicuramente un lavoro importante da questo punto di vista, l'ha fatto la destra italiana. Guardi, quando noi abbiamo fatto il congresso di Trieste, di Fratelli d'Italia, era almeno tre anni fa, no, di più, sì, tre anni fa, definimo Fratelli d'Italia il partito dei patrioti. E ricordo che al tempo fumo molto derisi per questo, termine desueto, siete proprio antichi, siete vecchi. Oggi ascolto il dibattito politico e sento, Matteo Renzi che dice che quando ha fatto cadere il governo Conte, due l'ha fatto perché lui è un patriota. Sento, se non vado errata, non ricordo quale esponente del PD, forse Piero Fassino, insomma uno di loro che dice noi non possiamo lasciare il termine patrioti alla Meloni. Sento addirittura, frato gli anni di Leu, dire che i veri patrioti sono loro. La considero una vittoria di Fratelli d'Italia. Direttore. Lei ha cominciato ad avere un ruolo politico, aveva cominciato già prima, però nel libro racconta l'esperienza di consigliere provinciale di Roma, che è stato il primo ruolo importante. Però nel libro traspare una cosa, la politica non può essere solo mera amministrazione, posto che sia anche buona amministrazione. Però far politica non significa governare bene dei processi tecnici, la politica deve essere soprattutto sentimento, passione e cultura. La politica deve essere visione, cioè ci sono due modi di fare politica secondo me, li vediamo bene in questo tempo. C'è chi prende i voti per fare politica e chi fa politica per prendere i voti. Che significa? Chi prende i voti per fare politica ha un'idea per cui io ho una visione, devo riuscire a convincere i cittadini che la mia visione è quella corretta, ma sia chiaro che il fine ultimo è la visione, la realizzazione di un sistema di valori, la realizzazione di un modello. Chi invece fa politica per prendere i voti, invece di guidare la società la rincorre. Si svegliano la mattina, guardano i big data, quali sono le parole che funzionano su Facebook e diranno esattamente quelle parole. E lo abbiamo visto, guardi, il Movimento 5 Stelle ne è un esempio. Vuol dire non credere in niente, un po' come un flacone del voto a rendere, no? Si può riempire di qualunque tipo di contenuto, dipende che cosa serve. Quello non è per me fare politica. Per questo io rimango colpita dal fatto che oggi la coerenza di Fratelli d'Italia venga considerata una grande dote. Perché io do per scontato che se fai politica tu debba essere coerente. Nel senso che sei coerente nella misura in cui credi in quello che dici. Se non sei coerente o se ondeggi un giorno dici una cosa e il giorno dopo dici il suo esatto contrario, vuol dire che tu non ci credevi. E allora per me diventa difficile capire quel modello. E credo che la buona amministrazione sia sicuramente una cosa che serve. Però il punto non è quanto tu sia bravo a scrivere una determinata norma. Il punto è se sai dove vuoi andare con una norma. Se sai che cosa vuoi costruire con una norma. Ci sarà sempre un tecnico che la norma la scriverà meglio di te. Ma tu devi sapergli dire che cosa vuoi fare. Nel libro c'è un richiamo al Signore degli Anelli. Ce ne sono 500 nel libro, direttore. Che è il romanzo della comunità. Dell'identità e della comunità. È intanto il libro in assoluto più bello che io abbia letto in vita mia. Ed è un grandissimo romanzo di formazione, una grandissima metafora sull'uomo, sulla comunità, sull'identità, sul rapporto con la terra, sul rapporto col potere. Perché alla fine il Signore degli Anelli di Tolkien è soprattutto un libro che ti dice che il potere è pericoloso. Che tu puoi vincere la sfida ma non puoi pensare di passare indenne, di fare quel passaggio indenne. E' un libro che ti racconta che tutti sono importanti ma nessuno è da solo capace di vincere una grande sfida. E ciascuno con le sue identità, con le sue specificità, con le sue spicolature ha un ruolo nella vicenda. Questo lo dice proprio Gandalf il grigio a un certo punto. No, è esattamente come Tolkien insegna che anche le piccole mani possono cambiare il mondo. Alla fine sono degli Hobbit che erano i più piccolini di tutti, aiutati dalla comunità a gettare l'anello. Compreso Gollum che era in teoria il cattivo ma anche il cattivo ha un ruolo nella vicenda. E anche un rispetto della natura e dell'ordine naturale delle cose. Certo, Tolkien è stato un grandissimo conservatore. Io lo considero un padre del pensiero conservatore e non solo io. Era uno dei padri il pensiero conservatore. Per questo dico è una grande metafora dei valori fondamentali della nostra esistenza. E non posso dire che... Guardi, io non penso che alla fine i libri ti insegnino qualcosa o i libri come il Signore degli Anelli ti insegnino qualcosa. Direi che sono più libri che ti aiutano a scoprire te stesso. Che ti aiutano a scoprire quello che hai dentro. Io ricordo che leggevo, l'ho letto più di una volta, la prima volta a 11 anni, era una grande no. Poi l'ho riletto qualche anno dopo. Edito da Rusconi. Edito da Rusconi, nella versione quella del Tomone. Il Tomone. Il Tomone che era un po' spaventoso quando lo vedevi. Poi tutto scritto fit. E a me è capitato sempre di dire, ecco vedi, lo volevo dire così. E tant'è che l'ho citato tante volte e poi ho detto, scusatemi se lo dici sempre, ma non ho trovato uno che lo dica meglio. Perché alla fine Tolkien rimane il numero uno da questo punto di vista. Però è sicuramente il richiamo alla comunità. Io lo vedo anche oggi con Fratelli d'Italia. Si dice, Fratelli d'Italia è un partito, c'è solo la Meloni. Non è vero. Io ho fatto la mia parte, sicuramente sono una che non si è mai risparmiata. Ma da sola quello che abbiamo fatto non l'avrei potuto fare mai. Citavo un altro, il libro della giungla. Loro dicono, no, il motto del branco dei lupi è la forza del lupo è il branco, la forza del branco è il lupo. È così. Cioè ogni lupo è necessario per il branco, ma senza il branco il lupo da solo non ce la fa. È esattamente il concetto di quello che noi abbiamo costruito, non voglio dire che siamo dei lupi, voglio dire che però abbiamo costruito questo percorso con il sacrificio di tanti e di tantissimi. E se c'è una cosa che la destra italiana ha imparato con la vicenda di Gianfranco Fini, che pure si considerava fosse insostituibile, quando è finita la parabola di Fini, di alleanza nazionale, si pensava che la destra non si sarebbe mai ripresa. Se c'è una cosa che abbiamo imparato è che nessuno è insostituibile. Ci sarà sempre in una comunità qualcuno che si carica questo fardello sulle spalle e lo rimette in cammino. Non era insostituibile ieri Gianfranco Fini e non lo sarà domani Giorgia Meloni. E questo noi lo dobbiamo sapere. Torno al suo libro, perché in uno dei passaggi cita un simbolo della cultura italiana che non ha mai fatto mistero della sua simpatia a sinistra, ossia Roberto Benigni. Siamo a Sanremo, il 2011, sul palcoscenico dell'Ariston, parla dell'Unità d'Italia a 150 anni dalla sua nascita. Sentiamo un estratto e poi ne parliamo. Memorabile! L'impresa che hanno fatto quelle persone sulle quali abbiamo scherzato, che hanno dato la vita non in senso poetico ma proprio fisico per noi, una cosa straordinaria hanno fatto. Un'impresa memorabile, inenarrabile. Si parla ogni tanto di risorgimento, tante volte non è un po' visto così, ma così, visto dall'alto. Per un momento è una cosa impressionante di grandezza. Tutto il mondo aveva gli occhi sull'Italia. Se voi pigliate la storia del mondo, in quel momento lì è concentrata la grandezza. Ma una grandezza senza pari. Questo racconto fatto da Benigni del Risorgimento l'ha colpita. Sì, mi colpi molto, perché Benigni dice una cosa, tanto perché è Benigni, sappiamo che è particolarmente capace a fare questi racconti, e perché Benigni dice in buona sostanza una cosa che fino al 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia quasi nessuno ha focalizzato. E cioè che l'Unità d'Italia è stata un'epopea straordinaria, per lo più fatta da giovanissimi. Io al tempo ero ministro della gioventù, noi facemmo una serie di iniziative che si chiamavano Gioventù Ribelle, perché non ci rendiamo conto che l'Italia è stata fatta da ventenni. Goffredo Mameli scrive, diciamo, la musica del nostro inno a 21 anni, muore a 22 anni sul Gianicolo. E nessuno le racconta, e la cosa pazzesca è che nessuno le conosce, ma la stessa epopea di Garibaldi. Sono vicende che se fossero accadute negli Stati Uniti d'America, Hollywood ci avrebbe fatto 52 film, e invece noi neanche lo insegniamo nelle storie, o non sappiamo raccontarlo con un minimo di amore, di pathos, perché noi siamo così, noi esaltiamo solo le ombre della nostra storia nazionale. Le luci, è come se non esistessero, e ci ritroviamo con ragazzi italiani che girano con le maglie di un rivoluzionario boliviano, cioè morto in Bolivia, e che rispetto alla cui vicenda, quella di buona parte dei ragazzi che hanno fatto il nostro risorgimento, impallidirebbe. Però questo è un problema tutto italiano. Il problema tutto italiano di rimuovere quello che c'è di bello. Certo che anche il risorgimento italiano è stata, alla fine, una guerra civile. Come tutte le guerre civili, ha avuto la sua sofferenza, le sue difficoltà, le cose che chiaramente ancora ci si portano dietro, sul piano del campanilismo. Però, voglio dire, alla fine, nelle altre nazioni, si tende a esaltare quello che c'è stato di sacrificio. Perché noi abbiamo la terra che abbiamo oggi, perché qualcuno si è sacrificato perché l'avessimo, e se non trasferiamo questo messaggio, sarà anche difficile spiegare oggi agli italiani perché devono fare anche il sacrificio più banale di fare la raccolta differenziata, atteso che non arriveremo a rifiuti zero nei prossimi tre anni, se non per lasciare ai nostri figli un'Italia migliore di quella che abbiamo ereditato noi, così come qualcuno ieri ha sacrificato qualcosa perché noi potessimo ereditare questa terra. Cioè la nazione non è un fatto di territorio, non è un fatto di razza, è un fatto soprattutto di passione, di scelta, dice Ernest Renani in una delle citazioni. La nazione è un grande plebiscito. Che è che sia la nazione? Plebiscito di ogni giorno. È la più bella definizione che io abbia letto della nazione. E dice, si fonda sulla dimensione dei sacrifici compiuti e di quelli che si è ancora disposti a compiere insieme. non c'è la comunità se non c'è la disponibilità al sacrificio, esattamente come non c'è l'amore. Alla fine come si misura l'amore? In quanto io sono disposto a sacrificare per un altro, quello è l'amore. E quindi l'amore per una persona, l'amore per la tua terra, l'amore per la tua patria, tutto si misura con la dimensione del sacrificio. Ma lo devi insegnare che quello che hai non era scontato, non è piovuto dal cielo, che quello che hai qualcuno l'ha costruito, l'ha difeso, dando tutto quello che poteva dare. Perché questo costruisce anche una responsabilità ecco, in Italia noi non abbiamo più, non abbiamo molto questa capacità di legame e questo poi comporta una serie di limiti che ci sono anche nella nostra quotidianità, per cui per noi chiaramente lo Stato è sempre un nemico, c'è questa tendenza all'io, che a volte prevale sul noi. È figlia di questa formazione che è anche responsabilità di qualcuno. perché la negazione di qualunque forma di appartenenza, di qualunque celebrazione di quello che siamo e di quello che abbiamo di bello è anche figlio di tanta politica, di tanta politica che in tutto il dopoguerra ha cancellato le bandiere tricolori, ha cancellato il senso d'appartenenza come se fossero un nemico da abbattere. I risultati li vediamo, però mi pare che le cose, come dicevate in apertura, piano piano cominciano a cambiare. Direttore. L'Europa può essere una nazione se noi pensiamo a Carlo Magno, a Federico II, alla lingua latina, al diritto romano, che è la base di tutte le leggi e pensiamo a quello slogan che urlavano nelle piazze i giovani di destra negli anni 50, Europa, nazione, la nostra rivoluzione. L'Europa può essere una nazione? Ma guardi, l'Europa è una grande identità, è una grande civiltà. Dipende che cosa si intende, certo. Se per nazione si intende l'appartenenza, certo, lo è già. O lo dovrebbe essere. Il problema è se lo possa essere l'Unione Europea. perché per come noi l'abbiamo conosciuta in questi anni, noi abbiamo conosciuto una realtà gigante, burocratico, nanopolitico e soprattutto sostanzialmente priva di principi di solidarietà o di sussidiarietà. è un'Europa che colpisce chi non si adegua, è un'Europa nella quale gli interessi di alcuni prevalgono sui diritti di molti, è un'Europa che ha anche un deficit secondo me di... no, secondo me, che ha anche un deficit di legame tra le sue scelte e la volontà popolare perché la sovranità risiede negli Stati nazionali, è un'Europa che, diciamo così, ha rinunciato a essere quell'Europa-nazione, no? L'Europa-nazione secondo me è possibile come Europa confederale, non come Europa federale. Cioè il modello diciamo dei cosiddetti europeisti, di un'Europa iper-burocratizzata, quindi gigante burocratico che toglie agli Stati nazionali sempre più competenze, avocasse tutte le competenze, non si sa neanche bene chi decida su queste competenze e si impone come una clava ricattando la gente. Guardi, io ho trovato, francamente, mi ha colpito molto, come già in passato, che si usino le risorse del recovery fund sul tema dell'Ungheria per la legge contestata dell'Ungheria sul gender nelle scuole perché è dura dire a qualcuno non ti do i soldi che servono a salvare i tuoi anziani. Secondo me è un po' dura, un'Europa è un po' forte, anche perché poi se volessimo, io adesso, siccome a differenza degli altri la legge di Orban l'ho letta e non dice, seppur lo dica con toni che possono condividere, ma dice in buona sostanza non si porta, non possono fare associazioni che non sono riconosciute formalmente dal sistema scolastico ungherese propagando agenda nelle scuole. Questo dice la legge ungherese, ma se l'Europa vuole essere così rigida sul tema della difesa dei diritti agli omosessuali, io sono d'accordo sulla discriminazione, a combattere la discriminazione contro gli omosessuali, ma mi aspetto che quell'Europa sia coerente, per cui adesso Fratelli d'Italia presenterà una mozione con la quale chiederà al governo Draghi di andare in Europa e chiedere all'Europa di bloccare ogni accordo commerciale con le nazioni nelle quali l'omosessualità è considerata un reato e quel reato viene pagato con la vita. Perché poi non ha molto senso che la FIGC mi mette la bandiera tricolore sul sito europeo ma non su quello arabo e poi andiamo a giocare i mondiali in Qatar dove gli omosessuali vengono lapidati. Cerchiamo di essere coerenti. Quindi questa Europa è un'Europa e chiudo, è questa unione europea e purtroppo si capiva perché quando ci fu il grande dibattito sulle radici cristiane dell'Europa nella Costituzione europea, il fatto che l'Europa non abbia voluto riconoscere le sue radici giudaico-cristiane è un po' tradiva, no? Che il legame non fosse dato dall'appartenenza comune ma se non è dato dall'appartenenza comune da cosa è dato? Alla fine è stato dato dagli interessi di alcuni che si affermavano sulla pelle dei mondi. Allora, quest'anno è l'anno dell'Italia l'abbiamo detto il presidente Draghi ha detto ai nostri azzurri avete portato il paese al centro dell'Europa continuiamo a parlare d'Europa il trionfo della nazionale l'impresa di Berrettini ma prima di loro i Maneskin che hanno vinto l'Eurofestival allora so che lei è una fan li vediamo in attimo insieme poi ne parliamo Siamo fuori di testa e allora stiamo andando verso la conclusione lei è rock? Io sono una grandissima appassionata di musica sono una grande appassionata anche dei Maneskin che seguo dai tempi del loro esordio a X Factor mi hanno dato una grandissima soddisfazione grandissima soddisfazione è stato un inizio di un cambio è stato proprio entusiasmante intanto è stato entusiasmante vedere questi ragazzi che suonavano a via del corso e che arrivano a vincere un contesto così importante a livello europeo e poi insomma questa no questa figuraccia che hanno fatto fare a chi non accettava che gli italiani potessero vincere un contesto rock di questo genere veramente mi hanno reso felice per cui grandi grandi mani nel finale lei nell'ultimo capitolo cita Cat Stevens e dice risentiamolo risentiamolo per l'ommaggio allora la frase la frase recita perché domani tu sarai ancora qui ma i tuoi sogni forse no dice Cat Stevens che nel frattempo è diventato Yusuf Islam tutto cambia qual è il sogno che lei non ha più e qual è quello che vorrebbe regalare a sua figlia il sogno che io non ho più è fare la cantante dei maneschi dei maneschi ci vedo va benissimo Damiano però insomma il mio sogno è fare la cantante da ragazzina e non accadrà è il piano C quello no no quello è il piano Z nel senso che è stato così è finito quando ero già ragazza e si è infranto anche voi volevo anche giocare a pallavolo ma anche lì insomma è un problema di statura il sogno che vorrei per mia figlia ma io vorrei solo che lei fosse che potesse sempre essere fiera di se stessa non è una cosa facile nella vita rimanere sempre fedeli a se stessi non tradirsi prima ancora di tradire gli altri non tradirsi è l'insegnamento più grande che vorrei regalarle non so se ci riuscirò ma ci provo sicuro in bocca al lupo grazie per essere stati con noi grazie direttore noi ci vediamo domani suure ecco Grazie a tutti.